video sull'ultima risposta dell'agenzia delle entrate che ha chiarito l'utilizzabilità della remissione in bonus per l'asseverazione tardiva del super bonus e del sisma bonus parliamo dell'allegato b redatto dal progettista strutturale che deve essere presentato necessariamente con la pratica quando viene fatto il progetto strutturale presentato il progetto strutturale contestualmente con la scia o col permesso di costruire tempestivamente e comunque prima dell'inizio lavori su questo l'agenzia ha messo l'enfasi c'è scritto proprio enfasi nella risposta 332 se non sbaglio vado a memoria l'ho registrata poco fa non ce l'ho più davanti pazienza del 2023 conferma che l'allegato b non è un allempimento formale che può essere sanato in modo semplice finora non era possibile sanare l'omessa presentazione o la tardiva presentazione con la conversione legge del decreto 11 con le norme di interpretazione autentica l'agenzia il legislatore e l'agenzia ora recepito ha consentito l'utilizzo della remissione in bonus entro quando deve essere fatta l'allegato b è quello che per il sisma bonus parliamo e per il super bonus entro quando deve essere fatta la comunicazione attraverso la remissione in bonus entro la prima dichiarazione utile cioè entro la prima dichiarazione con la quale inizi a fruire delle annualità o entro la comunicazione telematica nel caso in cui tu possa ancora usufruire di gestione del credito sconto in fattura spese 2022 facciamo l'esempio non è stato presentato l'allegato b o è stato presentato in ritardo penso si possa sanare anche la presentazione tardiva a questo punto come bisogna fare il termine ultimo il 30 novembre 2023 per poter comunicare con la remissione in bonus pagando una sanzione che mi sembra di ricordare sia 250 euro perché è importante sottolineare quando sono state sostenute le spese perché se si tratta di interventi iniziate nel 2021 sostenuti nel 2021 per i quali già è stata comunicata la prima dichiarazione l'anno scorso nel 2022 iniziate le rate non è più possibile presentare con la remissione in bonus l'allegato b in quel caso il problema dipende un po da come si è proceduto a agevolare le spese è un chiarimento che prende atto di una modifica importante nell'ambito del sisma bonus all'asseverazione tardiva presentato in modo tardivo è stata sempre un ostacolo e un problema insormontabile finora perché non era possibile sanarla non c'è possibilità di sanare una remissione una asseverazione presentata tardivamente il termine ultimo nel 2020 è stato modificato portando la possibilità fino all'inizio lavori addirittura prima c'era la contestualità con la imprescindibile con la pratica altrimenti era asseverazione presentata in modo tardivo ci siamo ti ringrazio di essere arrivato fin qui lascia mi piace su questo ho dato una bella botta come sempre al microfono su questo ho già fatto un video dove ho analizzato il su questo argomento ho analizzato la risposta l'interpello non credo che ci farò una live ma farò un articolo nel sito per a modi archivio in modo da avere queste risposte le sentenze i vari documenti ufficiali lì nel sito daniriotorresi.it dove ciascuno li può cercare principalmente per un utilizzo mio ti ringrazio di essere arrivato fin qui lascia mi piace ci vediamo al prossimo contenuto